Monica Carfagni insegna Ingegneria Industriale all'Università di Firenze e oggi ci ha raccontato queste cose molto interessanti che si fanno in particolare con la stampa 3D per protesi e altro per l'ospedale in collaborazione con l'ospedale Meyer. Vuole raccontarci un po' cosa avete fatto in questi mesi di lavoro comune? Certo, devo dire che è stato difficile scegliere da dove iniziare perché l'interesse dei medici per queste tematiche è stato veramente entusiasmante. Essenzialmente siamo partiti dalla realizzazione di protesi personalizzate per le rotture di polso dei piccoli pazienti. Lo storico gesso ha parecchi problemi, è pesante, non può essere ispezionato, insomma chiunque l'ha provato sa che non è proprio piacevole da portare. Le protesi personalizzate le stiamo cercando di introdurre all'interno del medier. Essenzialmente sono realizzate ad ocche per il paziente scansionandone il braccio con uno scanner realizzato appositamente e quindi riprende esattamente la geometria del braccio del bambino. Sono in plastica, sono leggere, sono apribili e possono essere realizzate in tempi veramente rapidi con le stampante 3D. Abbiamo visto anche delle placche realizzate sempre con questi strumenti per chirurgia di vario genere. Sì, la realizzazione di porzioni osse, quindi placche da sostituire a porzioni di osso nella pratica clinica è già una cosa che viene utilizzata già da alcuni anni. La possibilità di utilizzare l'elaborazione delle immagini TAC che dà la geometria della parte ossea in modo molto dettagliato e poter progettare le protesi prima dell'intervento rende ovviamente molto più semplice l'intervento e molto più sicuro il risultato. Che prospettive ci sono, che prospettive vede per una futura collaborazione tra in generale ingegneri, tecnologi e i medici del medier? Io veramente penso che le potenzialità siano quasi infinite. Abbiamo dovuto scegliere da dove iniziare e ovviamente abbiamo scelto dove in tempi più rapidi si potevano avere i primi risultati, dove le tecnologie erano già mature per avere i primi risultati. Però ci sono già molti altri gruppi del MEI e che forse sono in lista d'attesa. D'altra parte noi non abbiamo i numeri che l'ingegnere dell'Università della Georgia ci ha prospettato. Siamo con altre potenzialità sia in termini economici che di numeri. Quindi insomma dobbiamo approcciare alcune tematiche alla volta. Grazie a tutti.